Assessore, qual è il motivo di questa decisione? Lei ci ha detto che in questa relazione di questi tecnici si parla di un ammaloramento dove all'interno dell'istituto? Io ho letto la relazione, non sono stato all'interno, si parla di un ammaloramento del solaio della base della scuola, quindi a questo punto abbiamo chiesto un intervento a una società esterna che ci faccia una relazione generistica sulla struttura e siccome si parla di ammaloramento e modifiche abbiamo preferito mettere davanti a tutto prima la sicurezza degli 80 bambini e dei 15 di insegnanti e personale ATA e oggi abbiamo provveduto a fare un'ispezione con la società ingegneristica, gli ingegneri e i geometri del comune insieme allo stesso Assessore ai lavori pubblici Lorenzo Fosfortunato e hanno fatto un sopralluogo all'interno. Oggi pomeriggio si terrà un incontro proprio tra tecnici, un tavolo tecnico dove valuteranno e da lì arriverà la relazione che ci permetterà di fare scelte future se mi auguro aver sbagliato o di trovare un eventuale piano B. Nel piano B ci sono ovviamente contemplati i comprensivi del comune di Montevarchi dove gli 80 studenti potrebbero finire? Assolutamente perché non ci deve essere interruzione didattica, nessun tipo di difficoltà per le famiglie e per i ragazzi di conseguenza il piano B è in questo momento in fase di studio, avevo avvisato personalmente il provveditore agli studi per intervenire da un punto di vista organizzativo nella fase scolastica. Grazie.